Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. E' stato travolto da un tir il ciclista che questa mattina intorno alle 10 è morto in via Napoli, angolo con via Mercadante all'altezza della stazione di servizio Agip. Si tratta di Rocco Bellanova, un 76enne residente nella zona San Cataldo. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l'uomo in sella alla sua bicicletta avrebbe urtato il camion finendo sotto le ruote. L'autista del mezzo pesante sotto shock si è subito fermato chiamando i soccorsi. All'arrivo dei soccorritori del 118 per l'uomo non c'era più nulla da fare. Situazione carceri. Una delegazione di Lega e Fratelli d'Italia di Bari ha visitato la struttura di Bari dopo le aggressioni avvenute nei giorni scorsi a danno di alcuni agenti di polizia penitenziaria. Roberto Maggi. Sette aggressioni in appena una settimana, un organico di agenti ridotto in un anno di circa 70 unità. Una delegazione di parlamentari e consiglieri pugliesi di Lega e Fratelli d'Italia ha visitato il carcere di Bari. Nei giorni scorsi l'attenzione sul tema è tornata alta dopo una serie di episodi di violenza che hanno visto vittime alcune guardie carcerarie. Una situazione che per molti è riconducibile alle carenze di organico della struttura. A seguito del decreto ministeriale dello scorso ottobre che ha recepito le indicazioni della riforma Madia, si è passati da 340 agenti a 278, di cui peraltro una parte sono amministrativi e traduttori. Un organico calibrato per 290 detenuti, quando ad oggi il carcere di Bari ne ospita ben 440. Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d'Italia, ha descritto la situazione. Non possiamo assistere al fatto che vi sia per esempio per un intero braccio, tre piani, un solo poliziotto di servizio. Non possiamo assistere al fatto che vengano aggressioni nei confronti di persone che portano la difesa, la indifesa del popolo italiano e la divisa che rappresenta il popolo italiano. Resta da capire ora quali saranno le soluzioni da prendere nel breve periodo. La delegazione ha preannunciato che presenterà un'interrogazione parlamentare, ferme restando le responsabilità attribuite dai leghisti Rossano Sasso e Fabio Romito anche alle precedenti amministrazioni cittadine. In tal senso il riferimento è i 9 milioni di euro che sarebbero stati persi sotto la gestione emiliano per la realizzazione di una nuova struttura carceraria. Bisogna risolvere il problema del sovraffollamento. Si può pensare anche di eliminare la quota degli extracomunitari clandestini che andrebbero secondo noi espulsi. Bisogna veramente rivedere, pensare ad un nuovo piano delle carceri ma ancora prima assumere personale, sbloccare il turnover, fare concorsi. Purtroppo la città di Bari negli anni passati ha perso dei finanziamenti importanti proprio che ci sarebbero serviti e sarebbero serviti alla nostra città per garantire dei lavori di ristrutturazione in questo edificio o addirittura per costruirne un altro di carcere. Questa è un'occasione fallita che appartiene alla precedente amministrazione, a quella di Michele Emiliano. Torniamo in Largo Pascià, sede di una discarica abusiva in piena città. Questa mattina, dopo la nostra segnalazione, il sopraluogo delle opposizioni. Dopo la nostra segnalazione, parte delle opposizioni a Palazzo di Città hanno deciso di verificare la situazione personalmente. Tettoia in Eternit e pensi contenenti presumibilmente fibre in amianto abbandonate in piena città, per non parlare della discarica abusiva che da anni insiste nella depressione a due passi da Largo Pascià, balzata agli onori della cronaca nel 2016 perché individuata come sede della Tendopoli che avrebbe dovuto ospitare i migranti dell'ex set. Dalla collinetta a due passi dalle piscine comunali è impossibile notarla, occorre sporgersi per rendersi conto di cosa la città di Bari ospita al suo interno, a poche centinaia di metri dal mercato, questa mattina frequentatissimo. Storia, come dire, di un declino annunciato. Sono due anni che ripetiamo la stessa cosa, così come tanti altri problemi che abbiamo affrontato con l'assessore Petruzzelli, col sindaco De Caro in materia ambientale. Qui non è una giungla, ma siamo a pochi metri dal vecchio stadio della Vittoria, dove purtroppo vi sono dei cani probabilmente legati, adesso lo andremo a verificare, salute permettendo, vi è amianto diffuso, vi sono rifiuti di ogni genere. È facile da raggiungere ovviamente con qualche difficoltà anche per i bambini. Ecco, noi chiediamo al sindaco, come dire, di essere rispettoso alla parola data. In politica, come nella vita, se uno dà una parola, la deve mantenere. Assessore Petruzzelli, se ci sei, batti un colpo. E da Palazzo di Città parlano di contenziosi che bloccherebbero il normale iter della messa in sicurezza del luogo, in parte fatta, dichiarato l'assessore all'ambiente Petruzzelli, ma che necessiterebbe adesso di un intervento in danno ai privati, perché lo ricordiamo, il terreno non è pubblico. Questa mattina a Palazzo di Città il sindaco di Bari ha consegnato un riconoscimento a Massimo Grimaldi, barese, medico cardiologo responsabile dell'unità di aritmologia dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti. Grimaldi, laureato e specializzato presso l'Università degli Studi di Bari, è stato recentemente insegnato del premio dall'eccellenza in campo medico Top Doctors Awards, che si assegna da anni negli Stati Uniti. Piazza Umberto lasciata nel degrado la denuncia del Comitato a difesa della Piazza Cittadina, quest'oggi riguarda la palazzina ex-Goccia del Latte. Nonostante l'idro pulitrice a massima pressione, ormai il danno è fatto, scrive il Comitato di Piazza Umberto su Facebook, rifarendosi alla palazzina dell'ex-Goccia del Latte, da poco ristrutturato dal Comune di Bari, è già vittima dei vandali. Il riferimento dei componenti del Comitato, che da anni si batte per ottenere un maggior decoro per una delle piazze principali del capologo pugliese, va a un lato in particolare della storica palazzina, quello più nascosto, diventato ormai un orinatoio a cielo aperto. Neanche le potenti macchine dell'Ami hanno potuto nulla, così si presentava la facciata dopo l'intervento degli operatori. E poco può l'associazione che lavora al suo interno, che a proprie spese ha già provveduto alla sistemazione di inibitori per piccioni, così come ad altri piccoli interventi di manutenzione. Un'altra facciata, ad esempio, già presenta buchi provocati, secondo il Comitato, dal lancio selvaggio di pietre, probabilmente di notte, quando la zona è meno presidiata. Tutto questo va ad aggiungersi alle tante denunce sulla mancanza di sicurezza in piatto, e all'appello rivolto alle istituzioni di un maggior presidio da parte delle Forze dell'Ordine. Presentata questa mattina la quarta edizione della rievocazione storica, una giornata nell'antica Celia. L'evento organizzato dal proloco del quarto municipio Bari-Cailili, non Peuceta, è dedicato quest'anno alla memoria di Tonino Ciaula, l'educatore che ha promosso tra i giovani lo studio e l'approfondimento delle tradizioni carbonaresi. L'evento si terrà sabato 9 e domenica 10 giugno presso l'Istituto Calamendrei a Ceglie del Campo. Dagli autori internazionali alle giovani promesse della nona arte italiana, dal cinema alle serie TV, dai videogame ai giochi di ruolo, dal fenomeno degli youtuber a quello dei cosplay, torna a Bari il BG Fest, quest'anno in Fiera del Levante. Durante i due giorni di evento saranno presenti uno al fianco dell'altro, nomi del calibro di Rafael Alburquerque, controverso e celebre disegnatore di Batman e Batgirl per la DC Comics, Carmine Di Giandomenico, autore principale della serie regolare di Flash, e David Messina, artista italiano prestato al mercato statunitense, con all'attivo diverse collaborazioni con Marvel e DC Comics. L'evento barese sarà anticipato da un appuntamento al Planetario in Fiera del Levante, dal titolo GIC, Scienza e Fantascienza, che si terrà martedì 5 giugno alle ore 21. Concerti DJ Set, iniziative per la sostenibilità ambientale e la promozione della lettura, torna a Bari l'Acqua in Testa Music Festival, con la sua 14esima edizione per celebrare il rapporto fra la città di Bari e il mare, nella posizione inaugurata con successo lo scorso anno, che lo rappresenta al meglio il molo San Nicola, prodo tradizionale e centrale per le barche dei pescatori, così come per la movida serale. Da giovedì 21 a domenica 24 giugno 2018, ad ingresso gratuito, va in scena un fitto programma di concerti dalla PIL internazionale, con due prime italiane, un raduno nazionale d'auto d'epoca e un'area espositiva per collezionisti di dischi e libri. Grande delusione per l'eliminazione del Bari dai play-off ad opera del Cittadella, un 2 a 2 quello del tombolato che interrompe subito il sogno promozione dei biancorossi. Abbiamo raccolto gli umori dei tifosi questa mattina in città. Sentiamo. Questo pareggio del Bari, il Bari fuori dai play-off. Guardi, non è solamente la partita di ieri che siamo andati fuori dai play-off e da tutto. Purtroppo abbiamo pareggiato delle partite impossibili, tipo ad Ascoli. Immagino che Grosso si era studiato le preparazioni per le sostituzioni, però evidentemente chi è entrato è stato poco fortunato, l'hanno messa sui nervi quella del Cittadella e quindi... Il risultato è giusto, perché il Cittadella ha meritato di passare il turno, però per me la colpa è del presidente, il dottor Gian Caspro, non so se è il dottore... Secondo me hanno sbagliato la società che non doveva avere e perdere i due punti, altrimenti saremmo passati noi. Quando stava a Mattarese, Mattarese anche lui ha messo tutto per il Bari. Ora si vede, togliamo un presidente e ne mettiamo un altro. Una città di Bari come Bari, come Bari avere una città così grande che potevamo combattere anche, non dico alla Champions, ma almeno la Coppa UEFA. Ci sono grandi imprenditori che noi ce l'abbiamo a Bari, però non vogliono investire, questa è la verità e ci vuole un po' di coraggio anche per dire che noi abbiamo la città di Bari, bisogna investire... Ho il giocatore, sono 28 giocatori che c'è il Bari. Perché io non valgo a Montella. E vabbè, io non valgo. Beh, il città di Bari che cosa c'ha? Non città di Bari, no. Ma gli spiace, comunque speriamo che l'anno prossimo ce la facciamo. L'informazione termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it. Ed ora vi lascio al meteo. Amici di Trebimeto, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà ancora una zona di bassa pressione attiva sull'Europa occidentale, anche se per l'Italia martedì sarà una giornata bene o male discreta in gran parte del paese. Se controlliamo infatti la nuvolosità prevista dalle nostre parti, notiamo che non mancheranno ampie zone di sereno. Qualche annuvolamento di passaggio ci sarà, ma nel complesso davvero nubi di poco conto. E quindi anche come precipitazioni non prevediamo granché. Però qualche piovasco sarà comunque possibile sulla fascia alpina e prealpina, questo specie nelle ore pomeridiane. In Toscana, localmente anche sul Triveneto, però come vedete precipitazioni non particolarmente diffuse. E così nel complesso questo martedì sarà una giornata che potremmo definire discreta in gran parte del paese. Qualche acquazzone diciamo sarà però possibile in Toscana, qualche piovasco sulla fascia alpina e prealpina e magari al nord-est anche nelle vicine zone pedemontane, ma per il resto non mancheranno ampie zone di sereno. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti.